ciao 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 benvenuto benvenuto come stai? tutto ok? bene oggi sei qui per una visita oculare, giusto? bene la visita che andremo ad effettuare oggi sarà molto particolare perché sarà un mix tra una classica visita oculare ed alcuni esperimenti che mi permetteranno di testare nel dettaglio qual è la reazione dei tuoi occhi ad alcuni stimoli in particolare oggi utilizzerò un fascio luminoso di bassa, media, intensità ok? perfetto ho cercato di rendere l'ambiente meno luminoso per non creare ulteriore fastidio ai tuoi occhi abbiamo già il nostro fascio luminoso che utilizzeremo a breve questo tipo di visita non è assolutamente passiva ma cerca comunque di stare rilassato cerca di rilassarti ok? bene cominciamo la prima cosa che ti chiedo di fare è di guardare dritto ok? guarda me bocca, naso guarda me ok? ok? e non distoire lo sguardo ok? 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 guarda dritto guarda dritto guarda dritto guarda dritto guarda dritto guarda bene guarda dritto guarda dritto guarda dritto guarda dritto adesso ti chiedo di coprire prima un occhio e poi l'altro cerco di guardare più nel dettaglio il singolo occhio ok copri fino a questo qui ok 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 bene 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 ok guarda dritto ok bene 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 guarda dritto guarda dritto guarda me ok bene ok adesso andremo a testare il tuo campo oesivo periferico ok e muoverò il fascio luminoso dall'esterno verso l'interno ok dovrai dirmi quando vedrai il fascio luminoso ok bene cominciamo ok 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 guarda sempre dritto ok 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 bene Ok 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 Penna 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 Ok 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 Perfetto Ok Ora Guarda Queste due dita Nel momento in cui le muovo così Ok Nel momento in cui ti dirò Guarda qui Ok Guarda qui 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 ok qui 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 perfetto adesso accetterò ad intermittenza il fascio luminoso tu dovrai guardarlo il più velocemente possibile ok bene ok 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 guarda qui guarda qui ok 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 perfetto adesso adesso coprirò io un occhio alla volta e cercherò di guardare più nel dettaglio il tuo occhio ok andrò anche a misurare il diametro massimo della tua pupilla il momento in cui si andrà a dilatare o a restringere ok bene bene cercherò di avvicinarmi un po' ok per guardare meglio Ok 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 9 10 Ok Bene 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 Perfetto So Passiamo all'altro occhio ok Chiudi Ok 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 Perfetto 3 2 2 5 2 2 2 Ok Perfetto Ora ti chiedo di seguire il fascio luminoso Senza muovere la testa Testa ferma Segui con gli occhi il fascio Ok No Segui, 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 segui Segui, 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 segui Segui la voce Segui, segui, segui Ok Quarta Ok 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 Ok, ok Continuo a seguire il fesce Quinta, quinta, quinta Ok Quinta 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 Ok Guarda, guarda, guarda Guarda Bene Guarda, guarda Guarda Guarda, guarda, guarda Guarda Segui Adesso Adesso Ok Ok Continuo a guardare il fascio luminoso, ok? Ok 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 Adesso Ultimo esperimento Andrò Ad accendere E spegnere Il fascio luminoso Tu dovrai dirmi quante volte faccio clic Ok 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 Quante volte accendo il fascio? Ok Bene Ok Due Due Ok Cinque Bene Ok Ok Due Ok 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 Feliz Ok Ecco, guarda Ok Bene Molto bene la visita è andata molto molto bene spero che questi piccoli esperimenti siano stati graditi e che tu ti sia rilassato voglio dirti che i tuoi occhi stanno davvero benissimo bene grazie di essere stato qui e 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